Le immagini drammatiche di Kabul hanno riportato al centro dell'attenzione mondiale la situazione dell'Afghanistan, un paese ormai provato da decenni di conflitti interni e occupazioni da parte di forze armate straniere, dall'invasione sovietica del 1979 alla missione occidentale Enduring Freedom, avviata nel 2001. L'ormai cronica instabilità politica e le violenze hanno dato luogo a una prolungata emergenza umanitaria, di cui le immagini dei giorni scorsi costituiscono solo l'ultimo capitolo. Anche il Molise è pronto a fare la sua parte in termini di accoglienza. Il comune di Macchia Godena ha dato disponibilità per accogliere chi è in fuga dal paese, ma ci sono anche altre realtà come la Caritas diocesana di Trivento pronte ad offrire un rifugio a chi scappa. I più fragili, i più poveri, gli anziani, le donne, i bambini pagano il prezzo più alto e per questo sono costretti a fuggire, ma anche in questa loro fuga pagano un prezzo ancora più pesante perché il più delle volte trovano ai confini dei paesi muri, recinti, spinati, armi spianate, cuori chiusi che li respingono come indesiderati. La Caritas di Trivento ha accolto negli anni profughi in fuga dalle guerre e dalla povertà. Già nel 2001, all'indomani dell'11 settembre, dell'intervento Nato si fece promotore in collaborazione con Emergency di un progetto a sostegno delle vittime dell'ennesimo conflitto in Afghanistan. Ma allora come oggi la necessità è anche quella di superare a livello di opinione pubblica l'interpretazione semplicistica che vede contrapposti un Occidente democratico e un Islam reazionario, dicotomia che ha a più riprese giustificato interventi armati incapaci di garantire stabilità e spesso complici nella modifica dei fragili equilibri interni di una nazione ormai da anni al centro delle violenze. Quello che succede in Afghanistan è una vergogna, una vergogna di cui l'Occidente è responsabile e anche noi siamo responsabili. Le guerre, il rumore delle armi non risolvono i problemi, non creano la democrazia, non sanciscono i diritti. E il compito della società civile è quello di spronare la politica nella ricerca della strada giusta.